Dottoressa, ti annuncio. Anche Maria Luisa. Ma tua ragazza? Sì. 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 Sentite la tua mani tanto, carissimo. Ho giusto super rivoluzzi. Tu mi hai rito prima, ma non mi rito. No, no, mi riguarda tu. A me basta che trostevi e ci sia lì. Bene. Ho pure fatto un solo. Io credo di essere mio innamorato di te.